Certe case, come certe persone, hanno chissà come il potere di manifestare immediatamente la loro essenza maligna. Se si tratta di persone, non è detto che a tradirle sia questo o quel particolare del loro aspetto esteriore. Può darsi anzi che ostentino un volto aperto ed un sorriso ingenuo. Ma basta frequentarle anche per poco e subito si forma in noi la convinzione assoluta che ci troviamo di fronte a creature fondamentalmente diverse. Che la pasta di cui sono fatte sia il male. Sembrano respirare e portare con loro, forse a loro stessa insaputa, un'atmosfera così densa di segreta nefandezza che in loro presenza l'uomo comune si ritrae istintivamente, come da un appestato. Ciò vale forse anche per le case, ed è il sentore delle sinistre azioni perpetrate sotto quel tetto e che ancora leggia, dopo la scomparsa dei protagonisti, a farci venire la pelle d'oca e rizzare i capelli in capo. La furia originale dell'omicida e il terrore provato dalla sua vittima riccheggiano, a distanza di anni, nel cuore dello spettatore ignaro che all'improvviso si sente i nervi a fior di pelle ed il sangue che gli si ghiaccia nelle vene. Senza una ragione tangibile o visibile, il terrore lo ha colto. Nell'aspetto esteriore di questa particolare casa non c'era il minimo presagio di quelle tragedie che, secondo la voce pubblica, si scatenavano nell'interno. Non era né isolata né diroccata. Se ne stava rincantucciata in un angolo della piazza, simile in tutto alle case adiacenti. Uguale era il numero delle finestre, uguale il balcone sovrastante ai giardini, uguali i candidi gradini che conducevano alla porta d'ingresso nera e massiccia. Dietro la casa c'era la stessa strisciolina di prato nitidamente incorniciata di bosco, che correva fino al muro divisorio dei congiunti cortiletti posteriori. Uguali erano anche il numero dei comignoli sul tetto, il diametro e l'inclinazione delle grondaie e perfino l'altezza delle fuligginose cancellate del semi interrato. Eppure, questa casa sulla piazza, in apparenza così simile alle sue cinquanta squallide vicine, era in realtà profondamente diversa e orribilmente diversa. È impossibile dire in che cosa consistesse questa diversità tanto evidente e insieme tanto inafferrabile. Non si può credere che fosse frutto di pura fantasia, perché varie persone che l'avevano visitata senza conoscerne gli antefatti affermavano che certe camere erano così sinistre che avrebbero preferito morire piuttosto che rimetterci piede e che l'atmosfera generale della casa era tale da suscitare un senso di vero e proprio panico. E la lunga serie di inquilini, che dopo aver tentato di abitarvi, erano stati costretti a traslocare in fretta e furia, costituiva ormai poco meno che uno scandalo locale. Quando Short House venne a passare un weekend dalla zia Giulia nella sua casetta in Rivalmare, all'altro capo della città, trovò la vecchia signora in uno stato di grande eccitazione. Aveva ricevuto il telegramma di lei solo quel mattino ed era venuto a malincuore, preparato alla noia, ma non appena le strinse la mano e si chinò a baciarle la guancia grinzosa come una buccia di mela, si accorse che la zia era addirittura elettrizzata. Quando seppe che non c'erano altri ospiti, i suoi sospetti si fecero certezze. Era chiaro che il telegramma gli era stato mandato con un fine ben preciso. C'era qualcosa nell'aria e quel qualcosa avrebbe certamente dato i suoi frutti, poiché quella tempata zitella, maniaca degli studi metapsichici, era dotata di cervello e di volontà e in un modo o nell'altro riusciva sempre a raggiungere i suoi fini. La rivelazione giunse subito dopo il tè, mentre passeggiavano lentamente, fianco a fianco, sul lungomare, verso l'ora del crepuscolo. «Ho le chiavi!» disse zia Giulia con una voce vibrante di gioia e insieme di timore. «Sono mie fino a lunedì!» «Le chiavi della cabina a ruote o quelle?» domandò lui con fare innocente, levando gli occhi dalla lama del mare verso la città. Nulla la stimolava a parlare quanto una simulata ottusità. «No, no!» rispose in un soffio. «Ho le chiavi della casa degli spiriti, quella nella piazza!» «E ci vado stasera!» Short House sentì un brivido quasi impercettibile correregli per la schiena. Il suo tono prese ogni ombra dell'ironia. Qualcosa nella voce e nell'atteggiamento di lei lo fece fremere. La vecchia parlava sul serio, era evidente. «Ma non puoi andarci da sola!» incominciò. «È per questo che ti ho telegrafato!» rispose lei. Egli si volse a guardarla. Il viso sgraziato, enigmatico sotto le rughe, raggiava di un'animazione straordinaria, di un alone febbrile. Gli occhi le svolgoravano. Suo malgrado Short House si sentì percorrere da un secondo brivido più forte del primo. «Grazie, zia Giulia!» disse. «Grazie davvero!» «Proprio sola non avrei il coraggio di andarci!» continuò lei alzando la voce. «Ma con te mi piacerebbe immensamente! Tu non hai mai paura, lo so!» «Grazie!» disse di nuovo lui. «E tu credi che succederà qualcosa?» «In troppe cose sono successe là dentro!» sussurro lei. «Anche se sono quasi sempre riusciti a metterle a tacere!» «Tre inquilini si sono avvicendati in questi pochi mesi e si dice che ora la casa sia definitivamente vuota!» Short House cominciava ad interessarsi. La zia aveva un tono di estrema convinzione. «La casa è vecchissima!» continuò lei. «E la storia, una brutta storia, risale a molto tempo fa. Un delitto passionale commesso da un garzone di stalla geloso che aveva una relazione con una domestica della casa. Una notte riuscì a farsi chiudere in cantina e quando tutti dormivano si insinuò nelle stanze della servitù all'ultimo piano, spinse la ragazza giù per le scale fino al pianerotto l'inferiore e prima che qualcuno potesse intervenire la sollevò oltre la ringhiera e la scaraventò nell'atrio». «E il garzone?» «Fu preso, credo, e impiccato per omicidio, ma tutto questo avvenne un secolo fa e non sono riuscita ad avere maggiori particolari». La curiosità di Short House era ormai desta, ma pur non essendo particolarmente preoccupato per sé, ebbe qualche attimo di esitazione pensando alla zia. «Pongo una condizione», disse alla fine. «Niente mi impedirà di andarci», dichiarò lei con fermezza. «Ma sentiamo lo stesso, questa condizione». «Che tu mi garantisca la tua capacità di autocontrollo se dovesse capitare qualcosa di veramente terribile. Voglio dire, devi essere sicura di non spaventarti troppo». «Jim», disse lei alteramente. «Io non sono giovane, lo so, e neppure i miei nervi lo sono, ma insieme a te non potrei aver paura di nulla al mondo». Questo naturalmente chiuse l'argomento, giacché Short House non pretendeva di essere niente di più di quello che era, cioè un giovanotto normalissimo, e toccato sul tasto della vanità, non poteva restare insensibile. Accettò di accompagnarla istintivamente. Quasi per una precauzione del subconscio si esercitò per tutta la sera a dominare se stesso e le sue forze, accumulando, per così dire, una riserva di autocontrollo grazie a quel segreto lavorio che consiste nel riporre grado a grado tutte le emozioni e a metterci una pietra sopra. Un processo difficile da descrivere, ma efficacissimo, come ben sanno tutti coloro che sono passati attraverso gravi conflitti interiori. Questo gli fu utilissimo in seguito. Ma soltanto alle dieci e mezzo, quando si trovarono nell'ingresso, nella calda luce delle lampade amiche e ancora avvolti dall'atmosfera accordiale di una casa abitata, egli dovette attingere per la prima volta a questa riserva di forze. infatti, una volta che la porta fu chiusa ed egli vide la strada deserta e silenziosa aprirsi bianca davanti a loro nella luce lunare, capì chiaramente che quella notte la vera prova sarebbe consistita nell'affrontare due paure invece che una sola. Oltre la sua, avrebbe dovuto combattere anche la paura della zia. la guardò sottecchi, intuì che il terrore poteva trasformare quel volto chiuso e teso in una maschera orrenda e sentì che da una sola cosa in tutta quell'avventura gli veniva una certa sicurezza, dalla fiducia che aveva nella propria volontà e capacità di far fronte a qualsiasi emozione futura. Si avviarono lentamente per le vie deserte della città, una vivida luna d'autunno inargentava i tetti scavando ombre profonde. Non c'era un alito di vento e gli alberi nei geometrici giardinetti lungo il mare li guardavano passare in silenzio. Alle rare osservazioni della zia Short House non rispondeva. Capiva che ella cercava soltanto di difendersi rifugiandosi nelle cose ordinarie per impedirsi di pensare a quelle straordinarie. Poche finestre erano illuminate e da qualche comignolo salivano fumo e scintille. Short House aveva già cominciato a registrare tutto nei minimi particolari. Finalmente si arrestarono ad un angolo per leggere la targa della strada sul fianco di una casa illuminata in pieno dalla luna. Poi, di comune accordo ma senza una parola, svoltarono nella piazza e la traversarono fino al suo lato in ombra. «Il numero della casa è il tredici» sussurrò una voce al suo fianco. Nessuno dei due fece l'osservazione di prammatica ma oltrepassata la larga striscia di plenilugno presero a risalire in silenzio il marciapiede. Erano circa a metà della piazza quando Short House sentì un braccio che scivolava leggero ma molto espressivo sotto il suo. Allora capì che la loro avventura era cominciata sul serio e che la sua compagna stava già cedendo impercettibilmente agli influssi ostili. Aveva bisogno di sostegno. Pochi minuti dopo si fermarono di fronte ad una casa che si stagliava stretta e alta nella notte brutta di linea e dipinta di un bianco sporco. Finestre senza imposte e senza persiane li fissavano dall'alto scintillando qua e là sotto la luna e il balcone che sporgeva dal primo piano aveva qualcosa di innaturale. Le intemperie avevano chiazzato la facciata e l'intonaco era pieno di crepe ma all'infuori di quest'aria di abbandono propria di ogni casa disabitata non c'era nulla a prima vista che giustificasse la fama sinistra di cui l'edificio godeva. Dopo un'occhiata alle spalle per assicurarsi che nessuno li avesse seguiti salirono con passo fermo i gradini e si arrestarono all'enorme porta nera severamente ritta di fronte a loro. Erano tesi innervositi e Short House dovette trafficare a lungo con la chiave prima di riuscire ad infilarla nella serratura. Per qualche istante a dire la verità ambedue sperarono che non si aprisse poiché sulla soglia della spettrale avventura un oscuro turbamento faceva vacillare la loro precedente risoluzione. Short House sempre armeggiando con la chiave e impacciato dalla mano della zia che gli serrava il braccio era ben conscio della solennità del momento. Era come se il mondo intero tendesse l'orecchio allo stridore di quella chiave. Un alito isolato di vento giù nella strada deserta destò fra gli alberi alle loro spalle un fruscio subito spento ma a parte ciò nulla se non il rumore della chiave rompeva il silenzio. Finalmente la serratura scattò e la pesante porta si aperse scoprendo un nero abisso di tenebre. Con un ultimo sguardo alla piazza immersa nella luce lunare entrarono in fretta e la porta si richiuse dietro di loro con un tonfo che si ripercosse profondamente nelle vuote stanze e nei corridoi ma subito insieme agli ecchi un altro suono si fece udire e la zia Giulia si aggrappò così pesantemente a lui che egli dovette fare un passo indietro per non cadere. Un uomo aveva tossito vicino a loro così vicino che avrebbero potuto toccarlo. Short House che non escludeva neppure l'ipotesi di uno scherzo alzò subito il bastone e lo agitò in direzione del rumore ma non incontrò nulla di più solido dell'aria. Sentì accanto a sé l'ansito breve della zia «C'è qualcuno qui?» sussurrò la vecchia «L'ho sentito!» «Sta tranquilla!» disse lui seccamente «Era solo la porta!» «Accendi presto!» implorò lei mentre il nipote armeggiando con la scatola dei fiammiferi la apriva a rovescio facendoli cadere tutti sul pavimento di pietra. Il rumore comunque non si ripetè né si sentirono passi in fuga e un minuto dopo avevano in mano la candela accesa infilata in una scatola di sigari. Quando la fiamma si fece regolare egli alzò quel lume improvvisato per ispezionare la scena che, a dire il vero, era anche più tetra del previsto. Fra tutte le dimore umane non c'è infatti nulla di più desolato di una casa priva di mobili e fiocamente rischiarata silenziosa squallida e tuttavia abitata dal ricordo di antiche violenze. Si trovavano in un atrio spazioso a sinistra si apriva la porta di un'ampia sala da pranzo a destra l'ingresso si prolungava in un lungo corridoio buio che sempre restringendosi portava al pianerottolo della scala di servizio. Davanti a loro il grande scalone privo di tappeto saliva con un ampio semicerchio ovunque immerso nell'ombra tranne che in un punto a mezza rampa dove la luce lunare entrando dalla finestra veniva a formare una candida chiazza sugli scalini. Questo cono di luce emanava una tenue fosforescenza che conferiva ad ogni oggetto intorno un profilo incerto infinitamente più suggestivo e spettrale dell'oscurità completa. i raggi di luna filtrando sembravano ritagliare diafani visi dalle tenebre circostanti e mentre scrutava nell'oscurità profonda pensando ai piani superiori della vecchia casa con la loro fuga di stanze e di corridoi vuoti Short House si sorprese di nuovo a rimpiangere la protezione della piazza bianca di luna o l'intimo e chiaro salotto lasciato un'ora prima ma subito capì quanto fossero pericolosi questi pensieri e sforzandosi di ricacciarli ancora una volta fece appello a tutte le sue forze per concentrarsi sul presente Zia Giulia disse con voce forte e severa ora visitiamo la casa da capo a fondo dobbiamo fare una perquisizione completa gli echi della sua voce si spensero lentamente nella casa e nell'intenso silenzio che seguì egli si volse a guardarla alla luce della candela vide che la vecchia era molto pallida ma gli lasciò il braccio per un attimo e mettendosi davanti a lui vicinissima disse hai ragione dobbiamo essere sicuri che non c'è nessuno nascosto è la prima cosa parlava con sforzo evidente lui la guardò con ammirazione sei sicura di te sai che non è troppo tardi per no no bisbigliò lei gettando uno sguardo inquieto verso le ombre che li circondavano sono sicurissima una cosa sola che cosa devi promettermi di non lasciarmi mai da sola nemmeno per un momento sì ma capisci che qualsiasi rumore o apparizione deve essere esaminato immediatamente esitare equivale ad avere paura ed è fatale d'accordo disse lei con un piccolo brivido dopo un momento di esitazione tenterò a braccetto short house con la candela gocciolante in una mano e nell'altra il bastone la zia con il mantello sulle spalle veri personaggi da commedia per tutti tranne che per se stessi cominciarono la loro sistematica ispezione furtivamente camminando in punta di piedi e facendo schermo alla candela perché non rivelasse la loro presenza attraverso le finestre sguarnite entrarono innanzitutto nella vasta sala da pranzo non c'era ombra di mobili pareti nude e brutti camini dalle griglie vuote fissavano il loro sguardo su di loro tutto lo sentivano reagiva a quell'intrusione tutto sembrava spiarli con occhi ostili una scia di sussurri li seguiva un corteo di ombre si schierava in silenzio qua e là alle loro spalle pareva che ci fosse sempre qualcosa in agguato pronto a cogliere l'occasione per scatenarsi impossibile sottrarsi all'impressione che le segrete attività di cui la stanza era teatro fino a un istante prima fossero state interrotte al loro arrivo e che ora si attendesse soltanto la loro partenza per riprenderle tutto lo spazio interno del vecchio edificio pareva essersi coagulato in una presenza maligna che li ammoniva ad esistere dall'impresa a non occuparsi dei fatti altrui la tensione nervosa dei due visitatori cresceva ad ogni istante da una grande porta doppio battente passarono dalla cupa sala da pranzo in una specie di biblioteca o di saletta anch'essa avvolta nel silenzio nel buio e nella polvere e da qui raggiunsero di nuovo l'atrio nel punto in cui la scala di servizio scendeva al seminterrato una galleria nera come la pece si spalancava i loro piedi e qui bisogna confessarlo essi ebbero un attimo di esitazione ma non più di un attimo la notte era ancora lunga la crisi è ancora da affrontare e non potevano indietreggiare proprio ora la zia giulia inciampò scendendo il primo gradino della scala appena rischiarata dalla candela tremolante e persino short house sentì sfumare a dir poco una buona metà del suo slancio su avanti disse energicamente e la sua voce precipitò e si perse nei tenebrosi recessi sottostanti vengo vengo rispose lei con un filo di voce e aggrappandosi al suo braccio con tutte le forze scesero con passo incerto i gradini di pietra accolti da un soffio di aria umida e maleodorante la cucina dove immettevano le scale attraverso uno stretto corridoio era grande con un alto soffitto aveva parecchie porte alcune nascondevano armadi con barattoli vuoti ancora sui ripiani altre si aprivano su tetri ripostigli ognuno più freddo e meno invitante dell'altro sul pavimento correvano grossi scarafaggi e a un certo punto quando i due andarono ad urtare contro un tavolo in un angolo qualcosa che aveva le dimensioni di un gatto balzò giù rapido e zampettando sul pavimento di pietra sparì nel buio ovunque si sentiva come una presenza recente un'impressione di tristezza e di squallore lasciando il locale più grande si diressero verso il retro cucina la porta era semiaperta e quando la spalancarono la zia Giulia lanciò un grido lacerante che subito tentò di soffocare portandosi una mano alla bocca per un istante Short House rimase impietrito trattenendo il fiato ebbe l'impressione che la spina dorsale gli si fosse svuotata e che qualcuno l'avesse riempita di ghiaccio di fronte a loro e così vicina da poterla toccare era apparsa la figura di una donna ritta tra gli stipiti della porta aveva i capelli scarmigliati una fissità spaventosa negli occhi il viso terrorizzato e mortalmente pallido rimase là immobile per la frazione di un attimo poi la candela tremolò e la donna scomparve totalmente istantaneamente lasciando nel riquadro della porta solo tenebre e vuoto questi maledetti scarzi della candela disse Short House in fretta con una voce che non sembrava la sua e che riusciva a dominare solo in parte avanti zia non c'è proprio niente se la trascinò dietro proseguirono facendo risuonare fieramente i passi affettando la più grande naturalezza ma Short House era tutto percorso da un fremito fior di pelle come fosse coperto di formiche e dal peso che il suo braccio doveva sostenere capì che la zia non si reggeva più sulle sue gambe il retro cucina era freddo nudo e vuoto faceva pensare a una cella di prigione provarono le porte e le finestre verso il cortile ma tutte erano saldamente sprangate la vecchia gli si muoveva accanto come in un sogno teneva gli occhi strettamente chiusi e sembrava soltanto seguire la pressione del braccio di lui e sul suo viso Short House notò uno strano cambiamento un'espressione nuova che pure non avrebbe saputo definire qui non c'è niente zia ripetì in fretta ad alta voce andiamo di sopra a dare un'occhiata al resto della casa sceglieremo una camera e aspetteremo la lei lo seguì obbedientemente tenendosi stretta al suo fianco si chiusero alle spalle la porta della cucina e risalirono con un senso di sollievo nell'atrio c'era più luce di prima perché la chiazza di luna era scesa più in basso sullo scalone con grande cautela cominciarono l'ascesa verso l'oscura volta dei piani superiori i gradini scricchiolavano sotto il loro peso al primo piano trovarono due grandi sale da ricevimento una in fila all'altra ma l'ispezione non diede alcun risultato neanche qui c'era traccia di mobili o di presenze recenti null'altro che polvere abbandono e ombre aprirono la grande porta abbattenti che separava le due stanze poi usciti di nuovo sul pianerottolo si avviarono di sopra non avevano fatto più di dieci scalini quando di colpo nello stesso istante si fermarono pietrificati da un nuovo terrore guardandosi negli occhi attraverso il tremulo alone della candela dalla stanza che avevano lasciato pochi secondi prima veniva inconfondibile nel silenzio un sommesso cigolio di cardini non c'era dubbio udirono il tonfo cupo che segue richiudersi di una porta pesante poi lo scatto secco di una serratura dobbiamo andare a vedere ordinò brusco short house voltandosi per scendere bene o male la vecchia riuscì a seguirlo inciampando nell'abito la faccia livida quando rientrarono nel primo salotto constatarono che la porta battenti che avevano lasciata spalancata era di nuovo chiusa senza esitare short house la riaprì si aspettava quasi di trovarsi qualcuno dinanzi ma non vide che buio non sentì che l'aria fredda attraversarono le due stanze senza notare nulla di insolito vogliono allora assicurarsi che la porta non si fosse chiusa da sola ma dopo diversi esperimenti si dovettero persuadere che non c'era neppure quel tanto di aria da far tremolare la fiamma della candela la porta non si chiudeva se non sotto una forte pressione il silenzio era assoluto le stanze apparivano del tutto vuote e la casa del tutto tranquilla è cominciato gli sussurrò all'altezza del gomito una voce che a stento egli riconobbe per quella della zia short house chinò la testa in segno di assenso e trasse di tasca l'orologio per prender nota dell'ora mancava un quarto a mezzanotte short house si disse che era venuto il momento di segnare nel suo tacquino tutto ciò che era accaduto finora e si chinò per sistemare la candela sul pavimento gli ci volle un certo tempo per metterla in equilibrio contro la parete la zia giulia dichiarò poi sempre che in quel momento non lo stava guardando ma che aveva voltato il capo verso la seconda stanza dove le sembrava di sentir muovere qualcosa ad ogni modo furono tutti e due d'accordo nel dire che proprio allora giunse un suono di passi precipitosi e pesanti sempre più vicini e un istante dopo la candela si spense ma a short house a lui solo era capitato qualcosa di più ed egli ha sempre ringraziato la sua buona stella che fosse toccato a lui e non alla zia infatti mentre stava rialzandosi dopo aver sistemato la candela e prima che questa si spegnesse un volto umano apparve di colpo davanti al suo così vicino da permettergli quasi di toccarlo con le labbra era un viso stravolto dalla passione il viso di un uomo di colorito scuro dai tratti rozzi e con due occhi accesi da un furore selvaggio era il viso di un uomo del popolo senza dubbio già cattivo nella sua espressione abituale ma nelle condizioni in cui lo vide short house deformato imbestialito dall'ira traboccava di una malvagità addirittura non umana l'aria era immobile null'altro che quel rumore di piedi in corsa avvolti in calze o bende l'apparizione del viso e il quasi contemporaneo spegnersi della candela suo malgrado short house gridò dal raccapriccio e quasi perdette l'equilibrio quando la zia gli si aggrappò con tutto il suo peso in un momento di totale incontrollabile terrore la vecchia non aprì bocca si limitò a stringersi a lui con tutte le sue forze ma fortunatamente non aveva visto nulla doveva aver soltanto sentito quei passi rapidi perché quasi subito riprese il dominio di se stessa ed egli pote svincolarsi ed accendere un fiammifero al bagliore le ombre dileguarono e la zia si chinò barcollando alla ricerca della scatola da sigari e della preziosa candela scoprirono allora che la fiamma non era stata spenta da un soffio ma che era stata schiacciata lo stoppino era penetrato nella cera compresso come da qualcosa di liscio e pesante come la sua compagna avesse potuto riprendersi così in fretta dal terrore provato short house non lo capì mai bene ma quella prova di autocontrollo accrebbe ancora la sua ammirazione per il coraggio di lei e valse d'altra parte a rinvigorire il suo e short house che cominciava a vacillare gliene fu immensamente grato altrettanto incompressibile era per lui quella manifestazione di forza spiritica di cui erano appena stati testimoni che si trattasse di uno di quei fenomeni medianici di cui tanto si parlava gli pareva da escludersi e in ogni caso anche se lui e la zia erano senza saperlo dei medium la loro presenza aveva al più favorito ma non certo creato le forze oscure che già saturavano fino al tetto quella casa misteriosa era come procedere con torce accese tra mucchi di polvere da sparo così cercando di pensare il meno possibile egli riaccese la candela e salì al piano di sopra il braccio appeso al suo tremava senza posa e il suo stesso incedere tradiva una certa esitazione ma proseguirono come se nulla fosse e dopo un'ispezione senza esito salirono l'ultima rampa di scale che portava alla sommità dell'edificio trovarono lassù un vero alveare di camerette per la servitù gremite di mobili rotti sedie impagliate cassettoni polverosi specchi incrinati e lettieri decrepite le stanze avevano soffitti bassi e spioventi da cui qua e là penzolavano fitte ragnatele e finestre minuscole che si aprivano nei muri intonacati alla meglio un luogo tetro e soffocante che furono lieti di lasciarsi alle spalle scoccava la mezzanotte quando entrarono in una stanzetta del terzo piano prossima alla sommità delle scale per tentare di sistemarsi il meno scomodamente possibile per il resto della loro avventura era completamente spoglia e si diceva fosse la stanza allora usata come guardaroba in cui l'infurriato stagliere aveva inseguito e finalmente raggiunto la sua vittima fuori oltre lo stretto pianerottolo cominciava l'ultima rampa verso il piano di sopra e le stanze dei domestici che avevano appena ispezionato nonostante il freddo della notte c'era qualcosa nell'atmosfera di quella camera che li indusse ad aprire subito la finestra ma non si trattava soltanto di oppressione era qualcosa di più short house tentò di definirlo dicendo che in quella camera si era sentito meno padrone di sé che in qualsiasi altra parte della casa era qualcosa che agiva direttamente sui nervi che spegneva ogni energia che inlanguidiva la sua volontà gli bastarono pochi minuti per accorgersi di questa nefasta influenza della stanza e proprio nel breve tempo trascorso tra quei quattro muri nudi subì quella totale e inarrestabile emorragia delle forze vitali che fu per lui l'esperienza più orribile di tutta la serata appoggiarono la candela sul fondo dell'armadio a muro lasciandone il battente socchiuso in modo da evitare riflessi che potessero confondere la vista o giochi di ombre sulle pareti e sul soffitto poi stesero il mantello sul pavimento e sedettero in attesa con la schiena appoggiata al muro short house era a due passi della porta che dava sul pianerottolo la sua posizione gli permetteva un buon colpo d'occhio sia sullo scalone che scendeva nelle tenebre sia sui primi gardini della scala di servizio che portava al piano di sopra il pesante bastone gli stava accanto a portata di mano la luna era ormai alta sulla casa nel riquadro della finestra aperta potevano vedere le stelle simili ad occhi amici che dal cielo li rincuorassero ad uno a uno gli orologi della città scandirono la mezzanotte e quando i rintocchi di leguarno il silenzio profondo della notte senza vento tornò a ricoprire ogni cosa soltanto lo sciacquio del mare lugubre e remoto riempiva l'aria di sordi mormori all'interno della casa il silenzio si fece pauroso pauroso pensò short house perché ormai da un momento all'altro poteva essere rotto da suoni forieri di terrore la tensione dell'attesa si faceva di minuto in minuto più snervante parlavano a sussurri quando parlavano perché la voce normale prendeva qui un timbro strano ed innaturale un gelo insidioso non del tutto dovuto all'ora notturna invase poco a poco la stanza facendoli rabbrividire gli influssi ostili quali essi fossero stavano lentamente soffocando la loro sicurezza la prontezza dei loro riflessi le forze venivano meno e la parola spavento andava assumendo un significato nuovo e terribile short house cominciò a tremare per la vecchietta che aveva accanto oltre un certo limite il coraggio di cui pure non mancava ben difficilmente sarebbe bastato a salvarla sentì il sangue cantargli nelle vene e a tratti con tale violenza da impedirgli così parve di distinguere chiaramente certi altri suoni che cominciavano ad annunciarsi nelle profondità della casa ogni volta che concentrava l'attenzione su questi rumori essi cessavano di colpo una cosa però era certa che non si avvicinavano eppure short house non poteva liberarsi dell'idea che qualcosa avesse preso a muoversi nei piani inferiori della casa il piano dove c'erano i due salotti le cui porte si erano chiuse da sé era troppo vicino i rumori avevano qualcosa di più distante di più fioco pensò alla grande cucina percorsa da scarafaggi neri e allo squallore del piccolo retro ma senza sapersi spiegare perché gli pareva inverosimile che provenissero di là né d'altra parte potevano essere fuori della casa poi all'improvviso la spiegazione lo colpì come un fulmine e per un lungo terribile momento ebbe l'impressione che il sangue gli si fosse fermato nelle vene l'origine dei rumori non era ai piani inferiori venivano dall'alto dalla tesolazione di quelle camerette per la servitù con quei relitti di mobili e soffitti bassi e le finestre sconnesse dal piano dove la vittima era stata bruscamente svegliata e inseguita fino alla tragedia e non appena scoprì la provenienza dei rumori cominciò a perceperli più chiaramente erano tonfi furtivi lungo il corridoio passi cauti che entravano ed uscivano dalle camere una dopo l'altra per vedere se anche la zia se ne fosse accorta Short House volse il capo e gettò uno sguardo sulla figura immobile che gli sedeva accanto la debole luce della candela filtrando attraverso la porta socchiusa dell'armadio proiettava con vivo rilievo contro la parete bianca i forti lineamenti del viso di lei ma non fu questo a fargli trattenere il fiato e a fermargli lo sguardo qualcosa di straordinario era comparso sul volto della vecchia e sembrava rivestire ogni tratto come una maschera appianando le rughe profonde e consolidando la pelle fino a renderla perfettamente liscia qualcosa che conferiva a quel viso con la sola eccezione dei logori occhi un aspetto giovanile e quasi fanciullesco short house la fissava senza parola e il suo sbalordimento era vicino all'orrore al disgusto era sì il viso della zia ma il viso di 40 anni prima un viso senza storia un viso innocente di ragazza aveva sentito dire che il terrore è talvolta capace di spazzar via da un volto umano ogni altra emozione di cancellare ogni espressione precedente ma non aveva mai pensato che ciò potesse essere vero letteralmente o significare qualcosa di tanto orrendo nella sua semplicità quanto ciò che gli si svolgeva ora sotto gli occhi poiché il terribile marchio di una paura senza più freni si scriveva a chiare lettere nel vuoto totale di quella faccia infantile e quando sentendo il suo sguardo insistente ella si volse verso di lui istintivamente Short House serrò le palpebre per escluderla dalla sua vista ma poco dopo allorché ripreso il controllo delle proprie reazioni si decise a volgersi di nuovo verso la zia constatò con grande sollievo che l'espressione era già mutata la vecchia sorrideva e benché il viso fosse mortalmente pallido l'orribile velo si era sollevato e il suo aspetto era tornato normale qualcosa non va fu tutto ciò che lui riuscì a dire e la risposta fu molto eloquente venendo da una donna simile ho freddo e sono un po' spaventata egli propose di chiudere la finestra ma lei lo afferrò saldamente scongiurandolo di non lasciarla neppure per un istante e di sopra lo so bisbigliò con una strana risatina ma non me la sento di salire short house però la pensava diversamente capiva che per non perdere la testa c'era solo un mezzo passare all'azione prese la fiaschetta dell'acquavite e gliene versò un bicchiere che lei trangugiò con un piccolo brivido short house aveva ormai un solo pensiero uscire dalla casa prima che il collasso della zia diventasse inevitabile ma non era cosa che si potesse fare tranquillamente girando i tacchi e abbandonando il campo al nemico al punto in cui erano il pericolo maggiore stava proprio nella passività ad ogni istante sentiva scemare le proprie forze e misure disperate aggressive si imponevano senza altri indugi ma l'iniziativa doveva essere presa contro il nemico non fuggendolo il momento critico se necessario e inevitabile andava affrontato di petto questo era ancora possibile adesso ma fra dieci minuti gli sarebbero probabilmente mancate le forze per agire da solo e meno che mai per tutti e due di sopra nel frattempo i rumori si facevano sempre più precisi e più vicini accompagnati a tratti dagli scricchioli del palchetto qualcuno si aggirava con passo furtivo urtando quella contro i mobili attese qualche istante per permettere all'alcol di produrre i suoi effetti e sapendo che date le circostanze non sarebbero durati a lungo si alzò in piedi e badando a non far rumore disse con voce ferma su zia Giulia ora andiamo di sopra a vedere che cos'è tutto questo chiasso devi venire anche tu avevamo deciso così ti ricordi raccolse il bastone e si diresse all'armadio per prendere la candela una sagoma malferma e ansimante si levò penosamente accanto a lui ed egli udì una voce debolissima che sussurrava di essere pronta il coraggio di quella donna non cessava di stupirlo era molto superiore al suo e mentre avanzavano tenendo alta la candela sgocciolante short house capì che la sua forza gli veniva in qualche modo da quella vecchietta pallida e tremante c'era in lei qualcosa di indomabile che gli dava è vero un senso di vergogna ma al tempo stesso gli offriva quell'appoggio senza il quale egli non sarebbe stato certo all'altezza della situazione attraversarono lo scuro pianerottolo evitando di sporgere lo sguardo nelle fitte tenebre al di là della balaustra poi si avviarono su per la scaletta verso quei rumori che ad ogni istante si facevano più forti e vicini circa a metà della salita la zia Giulia inciampò short house si volse per afferrarle il braccio e in quell'attimo preciso dal corridoio dei domestici al piano superiore giunse uno schianto spaventoso e subito dopo un urlo acutissimo lacerante che era insieme un grido di terrore e un'invocazione di aiuto prima che potessero farsi da parte o retrocedere di un solo gradino qualcuno si gettò a corsa pazza lungo il corridoio di sopra e incespicando con un trepestio disordinato e pauroso si precipitò a tre gradini per volta giù per la scala dove i due si trovavano i passi erano leggeri incerti ma subito dopo risuonarono quelli pesanti di un'altra persona e l'intera scala sembrò tremare short house e la sua compagna ebbero appena il tempo di appiattirsi contro il muro quando la grandinata dei passi li raggiunse e due persone sfrecciarono davanti a loro l'una dopo l'altra fu una vera tempesta di rumori levatasi nel cuore della notte a sconvolgere il silenzio dell'edificio disabitato i due forsennati inseguitore ed inseguito erano passati letteralmente attraverso di loro e già con un tonfo sordo piombavano prima l'uno e poi l'altro sul palchetto del piano di sotto eppure short house e la vecchia non avevano visto assolutamente nulla né una mano né un braccio né un viso e neppure il lembo di una veste seguì una pausa brevissima poi il primo il più leggero evidentemente l'inseguito corse con passi incerti nella cameretta che short house e la zia avevano appena lasciato il più pesante lo inseguì si udì un rumore di lotta ansimi grida soffocate poi sul pianerottolo il passo di una persona che trascinava faticosamente i piedi come se vacillasse sotto un pesante fardello per mezzo minuto regnò un silenzio di morte poi venne il fruscio di un oggetto che precipitava tagliando l'aria e un tonfo cupo sordo laggiù sul pavimento di pietra dell'ingresso il silenzio tornò assoluto tutto era fermo la fiamma della candela era immobile era sempre rimasta immobile e l'aria non era stata smossa dalla minima perturbazione paralizzata dal terrore barcollando la zia Giulia prese a scendere senza attendere il compagno piangeva sommessamente e quando short house le passò un braccio intorno alla vita quasi sollevandola di peso si accorse che stava tremando come una foglia egli entrò nella stanzetta raccolse il mantello da terra sotto braccio a passi lentissimi senza parlare senza gettare una sola occhiata alle spalle scesero le tre rampe fino all'atrio d'ingresso nell'atrio non videro nulla ma per tutta la durata della discesa sentirono che qualcuno li seguiva gradino dopo gradino sentirono che qualcuno li seguiva gradino per gradino se affrettavano il passo lo lasciavano indietro e se rallentavano egli li raggiungeva ma neppure una volta si volsero a guardare ad ogni svolta della scala abbassavano gli occhi per tema di scorgere in alto colui che li seguiva con mani tremanti Short House apri la porta d'ingresso uscirono nella luce della luna aspirando profondamente la fresca brezza notturna che veniva dal mare grazie per l'ascolto se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri puoi fare una piccola donazione su Paypal o Ko-Fi tramite il link che trovi in descrizione inoltre se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro puoi trovarli anche su Spreaker Spotify ed Apple Podcast grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti